Una settimana straordinaria per la vela a Sanremo, ma potremmo dire una delle tante, con tantissime presenze. Sì, abbiamo terminato il campionato europeo IRC, il grande successo di barche, barche bellissime oltretutto, un livello molto molto alto. Sì, è una delle tante legate di quest'anno. Questa è stata veramente difficile dal punto di vista meteo, per il grande caldo, ma alla fine poi Sanremo si è rilevato a un posto fantastico per la vela. Abbiamo avuto due giorni eccezionali, dove abbiamo fatto tre prove al giorno di altissimo livello. Con equipaggi che sono arrivati da dove? Sono arrivati un po' da tutta Europa. Questa è stata la cosa interessante ed equipaggi di livello, come vi ho detto prima, altissimo. Sono veramente grandissimi campioni, grandissimi armatori e barche straordinarie. Questo in chiave sportiva, in chiave economica a Sanremo si parla spesso naturalmente delle presenze. Quante presenze ha portato questa settimana di regate? Ma dobbiamo tenere conto che in questa settimana abbiamo portato circa 600 persone per sette giorni. Dunque questo è un po' il punto di vista turistico-economico che secondo me non va sottovalutato. Saranno diverse le regate che si svolgeranno nel corso dell'estate e dell'autunno. È proprio un focus sull'autunno perché ad ottobre ci sarà la Dragon Cup che si preannuncia straordinaria anche in questo caso. Sì, perché rischiamo di avere tantissime barche. Oggi siamo già a 150 iscritti, spero che ne arrivino ancora molti. E a seguire avremo il campionato italiano già in 70. Proprio due manifestazioni anche lì di altissimo livello, una seguita all'altra. I club Sanremo che quindi continuano ad organizzare gare di altissimo livello che si ripercuotono indiscutibilmente sull'economia della città. Ma sì, per noi è una soddisfazione vedere tanta gente che viene qui, ma tanta gente che ama lo sport e ama il mare. Questo è uno dei punti fondamentali.